Ludovico era un giocatore esperto di Roblox. Amava sfidare se stesso e gli altri giocatori in percorsi sempre più difficili e avventurosi. Un giorno, mentre esplorava il mondo virtuale di Roblox, Ludovico scoprì un parkour considerato impossibile da molti giocatori. Era pieno di ostacoli intricati, salti impossibili e trappole ingenue. Ma Ludovico non si lasciò scoraggiare, decise di accettare la sfida e conquistare quel parkour una volta per tutte. Concentrato e determinato, Ludovico iniziò il percorso, saltando da un ostacolo all'altro con agilità e precisione. I suoi amici lo guardavano in diretta, incrociando le dita e sostenendolo con ogni salto rischioso. Mentre il tempo passava, Ludovico sembrava sempre più vicino alla vittoria, ma gli ostacoli diventavano sempre più difficili da superare. Il pubblico era rapito dall'abilità di Ludovico, incitandolo a non mollare e a continuare a lottare per la vittoria. E infine, dopo numerosi tentativi e con grande sorpresa di tutti, Ludovico riuscì a completare il parkour impossibile, trionfando con un sorriso di soddisfazione sul volto. Il video di Ludovico conquistando il parkour impossibile su Roblox divenne virale, ispirando altri giocatori a non arrendersi di fronte alle sfide apparentemente impossibili. Ludovico divenne un vero e proprio eroe virtuale, celebrato da tutti i giocatori di Roblox. La sua impresa rimase nella storia del gioco, dimostrando che con determinazione e impegno, anche l'impossibile può diventare possibile.